Si sdoppiano le manifestazioni a Roma dei sindacati sul futuro di acciaierie d'Italia, l'undici presidio dell'RSU, il diciannove sciopero di tutti i lavoratori. Compravendita di gasolio agricolo, la Guardia di Finanza sequestra beni, disponibilità finanziarie e quote societarie per 57 milioni di euro ad una società con base operativa a Taranto. Nessuna violazione del nuovo decreto ONG. La nave Geo Barents, dopo lo sbarco a Taranto di 85 migranti, è in rotta verso il Mediterraneo centrale per nuove operazioni. Ancora ben trovati nuovamente in diretta con l'informazione di Taranto e la sua provincia. Il siderurgico ionico in primo piano perché si sdoppiano le manifestazioni a Roma dei sindacati sul futuro di acciaierie d'Italia. L'undici gennaio presidio delle RSU, mentre il diciannove sciopero di tutti i lavoratori. Un primo appuntamento a Roma l'undici gennaio, la mobilitazione dei lavoratori nella capitale il diciannove. Si sdoppiano le iniziative di protesta di Fiume Wilmu SB per chiedere il cambio di governance al vertice di acciaierie d'Italia. L'undici gennaio primo appuntamento a Roma di una delegazione delle RSU assieme ai presidenti della regione Emiliano e della provincia Melucci con una conferenza stampa dei segretari nazionali dei tre sindacati sotto Palazzo Chigi. Nell'occasione saranno presentati i dati del referendum indetto tra i lavoratori sul cambio di governance. Il diciannove gennaio mobilitazione dei lavoratori con sciopero a Roma sotto la sede del Ministero delle Imprese in via Molise in occasione dell'incontro convocato dal Ministro Adolfo Urso con acciaierie d'Italia e le parti sociali. Quindi diremo al Ministro Urso di rispettare gli impegni presi e le dichiarazioni che parlano di prestito fonte ma comunque di aver risolto il problema del sequestro degli impianti, di poter ricapitalizzare, gli diciamo che non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo di dire chiacchiere, ne abbiamo sentite troppo in dieci anni. Se devono ricapitalizzare lo devono fare immediatamente, altrimenti non ci fermeremo qui. Teniamo completamente sbagliati che 680 milioni di euro vengono messi a disposizione di chi ha depredato questo territorio e questa fabbrica. Per cui riteniamo sia una scelta completamente sbagliata e da questo punto di vista rilanciamo il governo che ritiene di essere il governo del popolo, che ritiene di essere un governo che deve fare delle decisioni che riguardano il popolo. I lavoratori stanno dalla parte di chi sostanzialmente vorrebbe mandare via al Serormittal e prende una decisione netta anche da questo punto di vista. Noi siamo disponibili a fare tutto. Una cosa è certa, a differenza degli anni precedenti, il tempo è scaduto. Siamo in una condizione in cui la fabbrica, gli impianti della fabbrica sono ormai impianti con la brodo. Si parla tanto di ripartenza dell'AFO 5. Voglio ricordare a tutti che quell'AFO è fermo da quasi 8 anni e secondo noi ci saranno grosse difficoltà per farlo ripartire. Confindustria Taranto ha le idee ben chiare rispetto alla vicenda ex Ilva, che non investe certo solo l'indotto, ma un sistema ben più complesso di risorse e di regole, tutte strettamente legate tra loro. Dichiarazione del Presidente di Confindustria, Salvatore Toma, che prosegue. Ringraziamo il Sindaco Melucci per essere intervenuto con grande chiarezza sulla questione, anticipando in qualche modo anche la nostra posizione rispetto all'autonomia delle parti sociali e delle istituzioni. Riteniamo anche noi, prosegue il Presidente Toma, che questo non debba essere il momento delle divisioni, bensì delle condivisioni, sia pure nel rispetto reciproco delle diversità di vedute su alcuni aspetti della questione, che in tutti i casi non può essere liquidata con una mera rivendicazione di liquidità. Nei prossimi giorni, conclude il Presidente Toma, faremo sicuramente una valutazione sulla posizione autonoma assumta da alcune aziende dell'indotto, ma soprattutto definiremo ulteriormente con i nostri organi statutari le linee da portare al tavolo del 19 al Mimit, con l'auspicio che si possa uscire da quell'incontro con certezze e garanzie di più ampio respiro. Compravendita di gasolio agricolo, la Guardia di Finanza sequestra beni, disponibilità finanziarie, e quote societarie per 57 milioni di euro ad una società con base operativa a Taranto. Un presunto sodalizio criminale con base operativa a Taranto e ramificazioni nella provincia di Salerno, una società responsabilità limitata attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, avrebbe acquistato 60 milioni di litri di gasolio ad uso agevolato, il cosiddetto agricolo, per poi rivenderlo, e quanto emerge dalle complesse indagini della Guardia di Finanza di Salerno, avviate inizialmente dalla Procura della Repubblica della Città Campana, e dal 2022 dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di tre persone ed un'informazione di garanzia per i reati di natura tributaria. Per le fiamme gialle la società avrebbe acquistato ingentissimi quantitativi di gasolio, per un quantitativo complessivo di 60 milioni di litri. Per la successiva rivendita, soggetti non legittimati, che lo avrebbero utilizzato, a loro volta, per usi diversi da quelli oggetto dell'agevolazione fiscale, omettendo al tempo stesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini dell'IPAP negli anni 2016-2017. Dall'indagine emerge che la maggior parte delle operazioni, per una montare di circa 31 milioni di euro, sarebbe stata regolata in contanti al fine di non consentire la tracciabilità dei flussi di gasolio e l'identificazione degli acquirenti. Sono stati finanziari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Taranto, nella giornata di giovedì 5 gennaio, a sequestrare in modo diretto e per equivalente beni immobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie, per un valore di circa 57 milioni di euro, in relazione a diverse ipotesi di reato di natura tributaria. Nessuna violazione del nuovo decreto NG, la nave Geo Barents dopo lo sbarco a Taranto, di 85 migranti in rotta verso il Mediterraneo centrale per nuove operazioni. Nessuna violazione del nuovo decreto sui soccorsi in mare da parte delle organizzazioni non governative. La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha lasciato Taranto senza problemi nel pomeriggio di mercoledì 4, come vediamo nelle immagini dopo il completamento delle operazioni di sbarco degli 85 migranti che erano stati soccorsi in mare in due distinte operazioni e poi trasferiti nell'hotspot ionico. Entrambi i salvataggi erano stati richiesti dalle autorità italiane. Nessuna disposizione è stata violata, è stata questa la valutazione operata dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia Costiera e dalla questura di Taranto, anche perché, secondo la valutazione fatta dagli inquirenti, il nuovo decreto NG è entrato in vigore alla mezzanotte e un minuto del 3 gennaio, quando i migranti erano già a bordo. La nuova normativa, pertanto, non sarebbe stata comunque applicabile. I punti principali del decreto sono l'impossibilità di procedere a operazioni di soccorso multiple dopo l'assegnazione di un porto di sbarco e l'obbligo da parte del comandante della nave di informare i naufraghi della possibilità di asilo politico con richiesta a bordo e successivo trasferimento nello stato battente bandiera della nave. Joe Barents ha ripreso il suo viaggio verso una nuova missione nella Mediterraneo centrale. L'applicazione e l'efficacia del decreto NG dovrà essere valutata a partire dai prossimi sbarchi. Istituzioni, professionisti ed imprese a confronto nell'iniziativa Geometrie Urbane che si svolgerà a Taranto il 13 e il 14 gennaio prossimi. Si chiama Geometrie Urbane, l'iniziativa del Collegio dei Geometri di Taranto e si terrà i prossimi 13 e 14 gennaio. Vuole mettere insieme il mondo del lavoro con quello culturale, spettacoli di falconeria, dimostrazione volo di droni, una performance artistica digitale del tarantino Nicola San Marco, disegnatore di Walt Disney. La prima giornata si terrà venerdì 13 gennaio dalle 9 alle 20 e 30 al Teatro Comunale Fusco nel foyer, esposizione di strumenti, attività formative e corner point. La seconda giornata, sabato 14 gennaio, nella sede del Museo degli Illustri Tarantini in Via Platea è prevista un'esposizione a cura di aziende tecniche e di settore e poi una serie di confronti allargati a istituzioni e addetti ai lavori. Abbiamo pensato di unire un evento un po' più particolare, unire la città, le scuole, il mondo del lavoro, tutti insieme in una o due giorni piuttosto complessa. È una sfida importante che per fortuna ha avuto buoni partner. I geometri sono una categoria che va protetta perché veramente fanno un grande lavoro e io sono particolarmente contento del fatto che questo lavoro poi in qualche modo si apre alla città anche con degli eventi pubblici che comunque sono sempre utili. Allestito in Via Alto Adige nei pressi di Viale Magna Grecia il mercatino dell'Epifania, iniziativa dell'amministrazione comunale di Taranto. È tornato in Via Alto Adige tra Via Buccari e Via Zara il tradizionale mercatino dell'Epifania Taranto proposto grazie a un'iniziativa dell'amministrazione comunale di Taranto in veste leggermente ridotta rispetto al passato. È tornato in Via Alto Adige dopo l'apparentesi in Piazza Immacolata dove in questo periodo c'è la pista di pattinaggio in ghiaccio. Si potrà vivere ugualmente però l'atmosfera dell'Epifania con giocattoli e dolciumi, oggi dalle 16 alle 24 e domani dalle 8 alle 13. Il cioccolatino rimane sempre punta di diamante, rimane sempre il gianluiotto, il cremino, il piccolo cioccolatino di latte fondente, il confetto, comunque il carbone, però non c'è più un articolo che va più dell'altro. Caramello, produzione propria, stile siciliano. Ammiro questa amministrazione che hanno fatto questa scelta di eliminare la classica fiera, che questa è prettamente la fiera della Beifana. E' il miele come i torroni, è giusto che siano questi. Torna a Taranto la vecchia tradizione della Befana del Vigile. Questa volta però sono i vigili a portare i doni. Questa mattina una bella incursione in ospedale. I tarantini erano abituati a lasciare i doni ai piedi delle postazioni degli agenti impegnati a regolare il traffico. Da allora sono passati circa 100 anni. Oggi la Befana del Vigile, una vecchia tradizione, viene ripristinata in una formula innovata. Questa volta sono agenti ufficiali della Polizia Locale di Taranto ad arrivare dai bambini che hanno bisogno, in particolare nel reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Altri verranno consegnati a domicilio con l'ausilio della protezione civile comunale. Ogni tarantino può continuare a contribuire a questa causa versando una quota libera nella lista Befana del Vigile 2023 aperta nel punto vendita di via Cesare Battisti 5010 di Mr. Toys. Di vicinanza vuol dire anche prossimità e quindi è un altro elemento che purtroppo il Covid ci ha insegnato, ancorché ci sono delle restrizioni di accessi, però la vicinanza del resto della popolazione rispetto a quelli più fragili, in questo caso a maggior ragione i bambini, si deve essere una vicinanza mai scontata. Vi abbiamo accompagnato come cittadinanza nel corso delle feste e l'epifania non poteva mancare. I bambini che cosa dicono? I bambini sono molto contenti, nel senso che sicuramente è un periodo in cui dovrebbero stare dappertutto fuorché in ospedale, però purtroppo ci sono delle condizioni che prevedono la presenza dei bambini in ospedale e queste iniziative in qualche maniera spezzano questi periodi complicati e danno anche la possibilità di vivere un'epifania come tutti gli altri bambini. Ed è tutto il Tg dedicato a Taranto e la sua provincia. Termina qui i titoli e focalizziamo la nostra attenzione su Brindisi e Lecce. Sono pronto a ricandidarmi per completare l'azione intrapresa. Mi aspetto anche la presenza del Movimento 5 Stelle. Così il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e i nostri microfoni. Intanto scossa nel centro-destra sempre a Brindisi con la Lega che propone l'onorevole Dattis come candidato sindaco. Non c'è ancora il nulla osta per la sepoltura di Maria Prudenza Bellanova, la donna di Ceglie Messapica ritrovata congelata nel pozzetto di casa dei Carabinieri. Si attende l'esito finale dell'autopsia. Frutta e verdura, quali i prezzi? A quanto ammontano gli aumenti? Per col diretti pesano a catena gli aumenti delle materie prime. Nuovamente in diretta, ancora ben trovati la politica in primo piano. Sono pronto a ricandidarmi per completare l'azione intrapresa. Mi aspetto anche la presenza del Movimento 5 Stelle. Questo è quanto ha dichiarato il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ai microfoni di Antenna Sud. Il servizio. Il futuro di Riccardo Rossi sarà ancora candidato sindaco? Io penso che sia normale che si voglia avere anche la possibilità di chiudere con un secondo mandato l'azione intrapresa. Sia di risanamento dei conti, perché contiamo che nei prossimi 5 anni i conti possano essere definitivamente messi a posto, e poi completare tutte queste opere che oggi sono in cantiere. Un secondo mandato ci consentirebbe di ultimare i tanti progetti avviati e continuare su questa strada di rinnovamento della città. Così il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ai microfoni di Antenna Sud di fatto annuncia la sua disponibilità alla ricandidatura. Quindi vedremo ovviamente in questi prossimi giorni, perché ormai siamo vicinissimi alla scadenza del mandato, ma ovviamente questa ambizione c'è. E sulla coalizione che potrebbe sostenerlo alle prossime amministrative, Rossi, è chiaro, il centro-sinistra deve aprire le porte al Movimento 5 Stelle. La stessa coalizione che ovviamente in questo momento, a mio avviso, io lo dissi già nel 2018, e in realtà anche prima, nel 2016, dovrebbe essere allargata al Movimento 5 Stelle. Perché penso che ormai il campo del centro-sinistra, anche con le posizioni che ha preso il Movimento 5 Stelle, che ha deciso di essere in un ambito progressista, necessitano di una coalizione che interpreta questi valori, perché il valore della legalità, il valore della giustizia sociale sono i nostri valori, per cui non vedo perché dovremmo essere separati. In questi anni abbiamo fatto tantissimo, rivendica Rossi, nonostante la pandemia e la crisi finanziaria in cui abbiamo trovato il Comune al nostro arrivo. È stata un'azione importante, ha portato tantissime risorse al Comune di Brindisi, tra CIS, PNRR, ma anche altri fondi, altri progetti, parliamo di circa 200 milioni di euro, che cambieranno nel corso di questi dieci anni, i primi cinque che abbiamo attraversato, i cinque di realizzazione che verranno successivamente, perché il termine delle opere del PNRR e del CIS è il 2026, cambieranno il volto della città. Scossa nel centro-destra a Brindisi, con la Lega che propone l'onorevole Mauro Dattis come candidato sindaco. Non nascondo che noi come Lega stiamo facendo anche una pressione, lo dico, l'onorevole Dattis e pensiamo che sia la figura in questo momento più carismatica del centro-destra a Brindisi e che possa rappresentare una figura che può unire e di qualità con cui possiamo puntare a vincere. Mauro Dattis, candidato sindaco di Brindisi. Non una semplice suggestione, a quanto pare, ma una vera e propria proposta, messa sul tavolo del centro-destra da parte della Lega, come confermato ai microfoni di Antenna Sud dal consigliere comunale Ercole Saponaro, che invoca un centro-destra unito, a differenza della precedente tornata elettorale, dove proprio Lega e Forza Italia presentavano due candidati sindaco contrapposti. Un nome di peso, certamente quello dell'onorevole Dattis, che entra con forza nel dibattito elettorale brindisino. Per Saponaro, però, nessuna apertura, invece, ed uno schieramento allargato che convolga la nascente coalizione di centro. Noi siamo fuori da questo discorso, almeno come Lega non intendiamo aprire scenari diversi da quelli che io ho tracciato, naturalmente. È logico che l'interesse della città viene prima di tutto, ma non andremo mai a confrontarci con chi non condivide il percorso politico che noi vogliamo fare. Ora siamo anche partiti di governo e quindi per noi è più facile, vincendo con una coalizione di destra unita, poter chiedere al governo di avere un'attenzione particolare per Brindisi, per la nostra provincia. Quindi non siamo disponibili su questa ipotesi. Noi ci stiamo muovendo con molto tatto. Non è che non ci stiamo incontrando. Stanno avvenendo anche degli incontri in sede romana, con i rappresentanti istituzionali del territorio, gli onorevoli, i commissari regionali. Quindi passata la Befana sicuramente daremo un impulso a questi incontri, nel percorso però che come Lega vogliamo tracciare e in cui crediamo. Non c'è ancora il nulla osta per la sepoltura di Maria Prudenza Bellanova, la donna di Ceglie Messapica ritrovata congelata nel pozzetto di casa dei Carabinieri. Si attende l'esito finale dell'autopsia. Considerando la pazienza, che giuro a chi la conosceva, l'ha sempre contraddistinta tanto in vita quanto nella morte, non ci sono dubbi che Maria Prudenza Bellanova abbia già perdonato il figlio Angelo, accusato di occultamento di cadavere per aver surgelato l'anziana madre nel pozzetto di casa. La pazienza ha già, perché nonostante la scoperta del corpo senza vita della donna nella villetta di Contrada Galizia risalga lo scorso 22 novembre, la Salma di Renza è ancora nella camera mortuaria del cimitero di Ceglie Messapica, in attesa di una sepoltura ancora lontana. Non prima, perlomeno, che il medico legale Domenico Urso abbia depositato in procura gli esiti dell'autopsia, che in maniera definitiva chiariranno il giorno del decesso e soprattutto ne determineranno le cause. Esclusi sin dal primo momento segni di violenza, l'ipotesi più probabile, suffragata dalle stesse dichrazioni del figlio 55enne, è che la Bellanova sia morta per cause naturali e solo dopo congelata nel surgelatore. Eppure, prima di dare il nulla osta alla sepoltura, meglio alla cremazione della signora, come desiderio del discendente Angelo, il PM Mauro Ungallone vuole vedarci chiaro, fugando ogni dubbio su una vicenda macabra, eppure forse allo stesso tempo semplice, tutt'altro che misteriosa. Servirà ancora un po' di pazienza, insomma, per l'ultimo saluto a Maria Prudenza Bellanova, donna paziente in vita, ancora di più nella morte. Il polo vaccinale dell'Asla di Brindisi, nell'ex ospedale di Summa, ha un laboratorio in più, quello per le vaccinazioni dei più fragili. Si chiama prevenzione di precisione, si applica in campo vaccinale ai pazienti fragili, tenendo conto delle condizioni patologiche e dei vari interventi sanitari che gli stessi devono affrontare. In altre parole, se fosse un abito, sarebbe cucito su misura. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Brindisi ha attivato un ambulatorio ad hoc dedicato alle persone affette da patologie croniche, compromissione del sistema immunitario e in generale a coloro che hanno bisogno di seguire un percorso specifico. Quest'area dedicata va ad aggiungersi alle cinque già attive, ambulatori per bambini, adolescenti, viaggiatori internazionali, adulti e lavoratori, in più un jolly da utilizzare al bisogno. Ma cosa deve fare il paziente fragile per usufruire del servizio? Tramite i suoi medici di riferimento, quindi o il medico specialista delle reti di patologia o il medico di medicina generale, si deve interfacciare poi con noi con una loro indicazione precisa su quelli che sono gli interventi che deve fare, le attività sanitarie che deve fare e quali sono gli interventi preventivi che noi poi dobbiamo attuare. Dal punto di vista organizzativo, invece, come prenotazioni e orari? Questo ambulatorio l'abbiamo completamente dedicato, per cui in base all'afflusso, alle necessità dell'utenza e delle reti di patologia che ci inviano le liste degli utenti, noi apriamo in modo modulare e diamo appuntamenti precisi, puntuali, in termini di giorni e orari, agli utenti, in modo tale che non devono aspettare, ma appena arrivano sono serviti. Nuovo codice degli appalti ad esprimere dubbi è il presidente della sezione Brindisina, Maurizio Marinazzo. Dubbi e perplessità espressi dall'Ordine degli Architetti sul nuovo codice degli appalti varato dal Governo, salvando lo spirito di sdenire burocrazie e procedure, ma lasciando diversi interrogativi che anche secondo la componente Brindisina dell'Ordine richiede profondi interventi e cambiamenti, con la richiesta rivolta direttamente al Governo, partendo dalla necessità di un confronto diretto con gli ordini su questo importante argomento. I 102 ordini d'Italia hanno già inviato una nota, un documento al Presidente del Consiglio chiedendo una profonda revisione di questo codice, perché abbiamo una sensazione, forse una certezza, che dietro la manifestata esigenza giusta, condivisa, di semplificare le procedure, di sburocratizzare, di velocizzare i tempi, si nascondano altri obiettivi. E in effetti quello che viene fuori da questo codice è un'assoluta mancanza di attenzione verso il progetto, verso la progettazione, verso la qualità degli interventi, che non credo sia un tema, un concetto che riguarda solo gli ordini, perché credo che sia interesse anche della politica, di chi amministra realizzare interventi sul territorio e che siano interventi che restano di qualità. E credo che interessi tutta la comunità amministrata. in questa direzione non mi pare che si vada perché non si parla di concorsi in effetti nel termine in cui noi vorremmo in questo codice. Credo che sia un codice che guarda soprattutto ad altri strumenti tipo quello dell'appalto integrato che però privilegia le grandi società di ingegneria. Quindi c'è anche un problema come dire economico di mercato perché tutti i professionisti, penso ai giovani professionisti ma non solo, penso alle piccole e medie imprese in qualche modo sarebbero tagliate fuori. Frutta e verdura per Coldiretti pesano a catena gli aumenti delle materie prime. È aumentato tanto il prezzo della frutta e della verdura secondo Coldiretti molto? È abbastanza. Quanto vi costa adesso tipo fare un minestrone quanto spendete più o meno? Beh, non dico il doppio ma quasi. Ma sì, in supermercato magari per la pasta lo zucchero però a livello di verdura e frutta conviene sempre anche perché io sono del parere che devono mangiare un po' tutti, signora. Questo è. Questo è. Per effetto delle difficoltà economiche del caro prezzo nel carrello della spesa i pugliesi hanno tagliato gli acquisti di frutta e verdura. Le famiglie quindi sono costrette a spendere di più per acquistare meno prodotti per effetto dei prezzi che hanno fatto segnare per gli alimenti un aumento record complessivo di oltre il 9% tra prodotti freschi e lavorati. Moltissimo, no? Quanto spende lei tipo al giorno? Beh, io non mi so regolare comunque sono un po' spendacciona spendo la media diciamo 20-25 euro al giorno sicuro. Più o meno fare una spesa giornaliera di frutta quanto può venire di verdura? Dipende dai chili che compro 10-20-15 dipende della quantità della roba un chilo di crementini può costare 1,50 L'aumento dei prezzi scatenati dal mix esplosivo del rincaro dei costi energetici e del taglio dei raccolti a causa del clima costerà nel 2023 alle famiglie italiane quasi 9 miliardi di euro soltanto per la spesa alimentare questo secondo un'analisi della Col Diretti sui dati Istat Lei tipo quanto spende di frutta e verdura al giorno e quanto spendeva prima? Un paio di euro sicuramente Mediamente Si è svolta nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Lecce un sit-in organizzato dalla Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale per chiedere l'abbattimento delle barriere architettoniche Noi siamo qui per sollevare un problema che è quello della presenza ancora oggi di barriere architettoniche alla stazione ferroviaria di Lecce Nessuno deve rimanere escluso Si è tenuto presso la stazione ferroviaria di Lecce un sit-in organizzato dalla Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale per chiedere l'abbattimento delle barriere architettoniche la richiesta in uno striscione accesso ai binari diritto universale che racchiude il senso dell'iniziativa e ne sottolinea l'importanza Consigliere nelle altre città i trasporti per le persone che hanno dei deficit sono dei servizi garantiti a Lecce è tutto così difficile perché? Ci vuole la giusta attenzione non vuole essere questa una iniziativa che susciti polemica o altro noi chiediamo che si possa avere pari dignità per tutti e una città fatta di accoglienza soprattutto i cittadini leccesi salentini hanno più volte dimostrato questo loro spirito di accoglienza questa disponibilità non può poi mettere in campo barriere ostacoli che ne facilitano l'arrivo o la partenza non voglia essere innanzitutto un atto di solidarietà verso i tanti diversamente abili che hanno problemi qui però per la presenza delle barriere architettoniche che di fatto vedono compresso il loro diritto alla mobilità ho trovato una ragazza in carrozzina che è stata portata giù di peso per arrivare ai binari e non mi sembra una cosa civile e penso anche alla difficoltà delle persone anziane o semplicemente di chi trasporta un passeggino la situazione insostenibile ogni giorno in più di servizio sarà uno schiaffo in faccio alla civiltà di questa città che non lo merita presentato a Francavilla Fontana il restauro delle tele e dei nobili imperiali custodite al castello un importante progetto che ha visto protagonisti cittadini amministratori e la stessa famiglia imperiali per i contemporanei lo sguardo severo dei due nobili è icona stessa di castello imperiali proprio come il ricamo dei loro abiti d'epoca che su quelle tele trovarono nel mezzo del XVIII secolo un ricordo di imperituro eppure negli anni un po' sbiadito tra circa 12 mesi i due ritratti dei nobili imperiali signori di Francavilla Fontana torneranno splendenti grazie a quel restauro immaginato da un comitato di cittadini e poi finanziato grazie al bilancio partecipato promosso dall'amministrazione comunale e alla generosità dei discendenti della nobile famiglia abbiamo fatto una scelta molto chiara che è quella di investire in cultura se posso dire così in un impeto di presunzione e cioè in una operazione di restauro di due tele importanti che è anche una operazione di consolidamento di rafforzamento della consapevolezza di tutti noi di tutta la comunità francavillese della propria storia abbiamo voluto dare ridare dignità a due opere che fanno parte integrante del patrimonio culturale della città di Francavilla Fontana famiglia imperiali e Francavilla che condividono la storia con orgoglio e questa qui questa occasione del restauro delle tele è stato un momento di forte condivisione che abbiamo avuto con la cittadinanza attiva con l'amministrazione e crediamo possa essere anche un momento di ripresa di una storia comune il castello insomma si trasformerà in un laboratorio attivo vivo proprio come il legame tra la famiglia imperiale e quel feudo diventando città centro di scambio economico e culturale dell'intera area salentina quel feudo che oggi è brillante comunità ed è tutto termina qui anche il nostro OTG dedicato a Brindisi e Lecce grazie a tutti voi per averci scelto per averci seguito non andate via perché tra pochissimo è il momento dell'informazione sportiva buon proseguimento rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo